Come finirà l'anno scolastico in corso e come partirà il successivo? Molto dipenderà dal se e quando si tornerà in classe, data spartiacque il 18 maggio. Per i ragazzi di media e superiori, alla fine del loro ciclo di studi, il governo ha definito modalità di esame diverse in base al rientro o meno a scuola entro quella data. Se si rientra entro il 18 maggio le prove saranno in presenza e costituite da commissioni interne dove accanto alla prima prova di carattere unico per tutti ci sarà una seconda prova modulata a seconda dell'istituto. Quindi ogni istituto predisporrà la propria. Se si rientra invece dopo il 18 maggio le prove saranno sostituite da un colloquio telematico per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado e dalla presentazione di un elaborato scritto per quanto riguarda le scuole secondarie di primo grado. Per tutti gli studenti invece appartenenti alle fasce e alle classi intermedie si è deciso di non procedere alla scelta di ammetterli o non ammetterli alla classe successiva, non per un colpo di spugna ma semplicemente perché il ministero ha voluto tener conto del fatto che la didattica a distanza quest'anno per la prima volta è stata utilizzata in modo massiccio in via sperimentale e secondariamente perché non tutti hanno potuto seguire nello stesso modo la didattica a distanza, vuoi per mancanza di strumentazione, vuoi per tanti altri motivi. Per cui si utilizzerà parte del prossimo anno scolastico che inizierà il primo di settembre proprio per il recupero degli apprendimenti che eventualmente non sono stati raggiunti nel corso dell'anno. È comprensibile il fatto che il ministero abbia voluto in tutti i modi cercare di tutelare i ragazzi in una fase che è una fase nuova, strana, emergenziale e che ci porterà a cambiare anche le nostre abitudini per quanto riguarda il modo di fare didattica. Credo sia una soluzione ispirata dal buon senso e soprattutto dalla volontà di rientrare in classe quando veramente l'emergenza epidemiologica possa dirsi comunque, se non del tutto scongiurata, almeno fortemente indebolita.